Musica Musica Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo dato al Fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, 14 gennaio 2022. Il Fondatore Ho offerto la Via Crucis di questo venerdì in riparazione delle profanazioni commesse nelle chiese di Francia, tutte le stazioni in ginocchio. Alla preghiera finale Nostro Signore era lì, vestito di bianco e con una grande stola rossa. Il suo sacro cuore sulla sua tunica ha emesso due raggi di luce. Le sue ferite sui piedi, sulle mani e persino sulla fronte erano sanguinanti. Ho baciato il pavimento in riparazione e mi sono segnato. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostro Signore dice Ho sete, sono assetato, sono assetato. Il Fondatore Nostro Signore ha iniziato a gemere di dolore. Mio Signore e mio Dio, ti offro le mie riparazioni e le mie sofferenze per dissetarti. Nostro Signore La mia sposa mistica mi offende giorno dopo giorno. Infedele, si è tolta l'anello unziale. Dopo avere demolito il rito liturgico, saccheggiato il divino sacramento dell'Eucaristia, il falso profeta spazzerà via subdolamente anche gli altri. La grande riforma è in corso. Redefinirà il significato del peccato, lasciando la porta aperta a tutti i tipi di vizi. Allora, verranno i giorni della grande immoralità su questa terra. È in atto un culto alla gloria del falso profeta. Molti papi, cardinali, vescovi, sacerdoti, diaconi e religiosi hanno offuscato la mia Chiesa pervertendola. Non ti ordino di lasciare il mio corpo mistico. È un'esortazione a non essere corrotti quando le azioni e le parole del governo della mia Chiesa sono in totale contraddizione con la Divina Rivelazione. Il fondatore Gesù mio I cuori non accolgono i messaggi Mi dispiace di non poter fare di meglio Ti do la mia vita per salvare la Chiesa e il mondo Nostro Signore Agnelli miei Tornate all'ovile Non seguite la voce del mercenario che conduce il greggio in direzione di un precipizio Le mie parole sante preparranno contro l'assalto dei divisori Siate obbedienti Non riuscite ancora ad attuare l'ultimo messaggio di riparazione Ricordate, le mie parole date in passato Si sono realizzate Il mio vero vicario è il Papa della riparazione Prega per lui Accompagnalo fino alla fine del suo sacrificio per la mia sposa mistica infedele Il mio morente pontefice Benedetto XVI sentirà nel suo cuore il terribile tradimento del falso profeta Il successore di San Pietro prostrato lotta contro le manovre di Satana Nonostante il suo stato rimane una minaccia per i seguaci del falso profeta Un uomo sorgerà dove sorge il sole Adulato diventerà molto presto l'uomo provvidenziale Con il suo grande carisma e il suo fascino Questo cosiddetto pacificatore calmerà i conflitti in terra santa tra i palestinesi e israeliani Regnerà una falsa pace L'anticristo amato e inotato per tutti questi atti eroici Saprà destreggiarsi in tutte le lingue tranne una Il latino Sarà unanimamente accolto da tutti i governi mondiali A Roma il falso profeta anticipa segretamente il suo arrivo Sforzandosi di unire tutte le chiese di diverse denominazioni Con l'obiettivo di creare una nuova chiesa ecumenica mondiale L'impostore si impegnerà nella preparazione di un libro universale per raggiungere i suoi fini Lo riconoscerete Bicolore Recante il primo numero dispari e la rappresentazione di un ruminante Questo libro dirigerà il pensiero dei più vulnerabili Inondando tutti gli ambiti oltre la religione Coloro che si sono schierati sotto la bandiera del mio sacro cuore Non si lasceranno ingannare Il falso profeta e l'anticristo regneranno con il pugno di ferro Le scomuniche colpiranno tutte le anime che si opporranno alla loro dittatura anche a costo della vita Miei agnelli dovete prendere una posizione prima della partenza per il cielo del mio Papa della riparazione Benedetto XVI Alle condizioni precedentemente rivelate Quando lascerà questo mondo sarà rivelato il volto dell'anticristo Il testamento spirituale del mio sommo pontefice Papa Benedetto XVI subirà modifiche Violato dallo stesso governo della mia chiesa vi sarà presentato uno schema falsificato Il mio Papa della riparazione, conoscendo la forza dei poteri interni, non permetterà che prevalgano le menzogne Il mio piccolo resto scoprirà questo autentico patrimonio estirpato dalle mura di Roma dalla mano di una piccola anima Io ho dato la grazia di istruirvi sugli ultimi tempi Prega, la corona riparatrice Diventando docili alla mia chiamata Comprenderete il mio amore che non è un simbolo ma una realtà che segna la mia divina presenza Venite, miei agnelli, radunatevi in tutto il mondo State invece dalla parte del mio vero vicario, il Papa Benedetto XVI Mia piccola anima oblativa, mio fedele profeta che soffri Per il mio santo nome ti proteggerò sempre e ovunque Dal mio sacro cuore come dono supremo ho suscitato e formato l'ordine romano di Maria Regina di Francia Con il mio messaggio di riparazione Il caos si sta diffondendo in tutti i continenti I miei agnelli, avendo rinnovato la loro professione di fede animati dal divino Paraclito Riconosceranno in questa opera penitenziale il mio segno Le anime leali e fedeli all'insegnamento del mio vicario Papa Benedetto XVI Vedranno il compimento degli oracoli Ricorderanno tutto ciò che ho lasciato e rinvigorite dopo le lacrime del lutto Raddrizzeranno lo stendardo una volta abbattuto e calpestato Agnelli miei, abbiate il coraggio del profeta Daniele Per abbattere in ogni modo possibile gli idoli che Roma vi imporrà Rimanendo vicino al trono della Beata Madre L'opera della salvezza continuerà nel bel mezzo della lotta finale Tutte le trasgressioni della mia legge divina sono in fedeltà alla mia alleanza A costo della vita, nel periodo della grande purificazione Rimanete fedeli ai veri dogmi Con il mio messaggio di riparazione e l'aiuto della mia Santa Madre La Vergine Maria Uscirete liberi da questa crudele prova Roma vi imporrà delle catene che vi legheranno Non abbiate paura Perché io sarò con voi per organizzare la resistenza Il mio sacro cuore ha sete delle vostre riparazioni Di fronte ai misfatti della sua Chiesa che sono innumerevoli Non lasciate che le mie parole cadano nel vuoto Il Fondatore Nostro Signore piange E spontaneamente canto Egli è il nostro capo in terra E Christus vincit Nostro Signore mi permette ancora una volta Di vedere sua santità Papa Benedetto XVI Nei due raggi di luce che escono dal suo sacro cuore Il nostro amato Papa ha le mani giunte È solo Guardandomi mi ha detto Ti crederanno Nostro Signore annuisce con la testa Sento Tutta la solitudine del nostro Santo Padre È in uno stato irriconoscibile Le grandi borse sotto gli occhi mostrano il suo stato di stanchezza Ha un respiro affannoso Guardo nostro Signore che mi dice Sì Ho detto al Santo Padre Lei è il nostro Papa della riparazione E lui risponde Dillo alle nazioni Mi mostra il lato sinistro con mano tremante E vedendo le sue lacrime capisco che sta indicando la residenza di Santa Marta In cuore suo mi dice che è sotto sorveglianza Gli dico che è amato E sarà sostenuto nella preghiera fino alla fine Nostro Signore si toglie la stola rossa e la dà al Santo Padre perché la abbracci Poi gliela mette al collo Ho chiesto al Santo Padre di benedirci Il Signore impartisce la benedizione contemporaneamente al Santo Padre Tracciando tre segni di croce Dopo un tempo di preghiera silenziosa L'intera visione svanisce Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amo Amo Amo